Conferenza stampa di presentazione del Festival Lirico di Casamari giunto quest'anno alla tredicesima edizione nonostante le difficoltà di riperimento fondi alle quali purtroppo si deve far fronte. Vogliamo offrire anche quest'anno un tempo di musica in un contesto suggestivo e in un periodo di tempo in cui la gente si muove più facilmente nelle ferie estive. L'importanza del festival è suggellata dalla contributo di partner vecchi e nuovi che credono nella potenza dell'appuntamento lirico. La Banca Popolare di Frusinate è stata vicina a questa manifestazione sin dall'inizio, 13 anni fa. Continua ad esserlo perché si tratta di una manifestazione che ormai ha raggiunto un successo notevolissimo. Noi siamo impegnatissimi nell'individuazione di tutte quelle opportunità di sviluppo del sistema culturale e quindi in questo senso abbiamo pensato di fornire un supporto anche a questa iniziativa che rientra perfettamente nel novero delle varie attività che stiamo sviluppando sul territorio provinciale. È un evento che la provincia avvicina sia lo scorso anno ma anche gli anni precedenti. Quest'anno lo stesso nonostante la carenza di sozio sto facendo tutti i sforzi possibili e immaginabili perché non voglio assolutamente far morire questa iniziativa veramente molto importante e significativa. Quali le novità di questa edizione? Un bel programma che rinverdisce i farsi del festival di Lirico di Casamari. Abbiamo la serata inaugurale con la Trio Dossio, soprano stabile alla Scala di Milano e Gianluca Terranova che ha interpretato Enrico Caruso per Rai 1. Abbiamo il premio Oscar Bagaloff la sera di Ferragosto e chiuderemo il 20 di agosto con le belle note di Napoli e un repertorio della canzone classica italiana e un esempio del bel canto italiano famoso nel mondo.